La quinta edizione del Master di scrittura organizzato da Strada degli scrittori e Treccani Cultura si è concluso con la parola fiducia sviluppata dal Massimo Brai, direttore generale della Treccani. Non è un caso che abbiamo cominciato all'inizio della settimana sviluppando la parola virus, passando per contagio, per distanziamento fisico, per assembramento, cioè tutte le voci che hanno tormentato la nostra vita durante la pandemia. Alla fine invece fiducia, fiducia perché speriamo di guardare al futuro ricominciando a vivere, ma guardando noi stessi cosa eravamo prima della pandemia e che cosa dobbiamo essere dopo. In fondo questa è l'indicazione che ha dato padre Antonio Spadaro, il direttore di Civiltà Cattolica, e siamo lieti di prendere al volo questa indicazione in un luogo meraviglioso come il Polo San Lorenzo, messo a disposizione dalla Diocesi, dal Vescovo, il Monsignor Alessandro Damiano, e da Don Giuseppe Pontillo, il direttore dei beni culturali della Diocesi di Agrigento. Con loro, con tutto lo staff della Strada degli Iscrittori si è entrati in sintonia e immaginiamo già di poter costruire nuove occasioni e chissà, forse speriamo, la sesta edizione del Master di Iscrittura, il prossimo anno, sempre qui al Polo San Lorenzo.